Ieri va della giornata, ma saremo un'eridata, con bravura io talpissi, la mia tu, parinti amici, tutti insieme in tecchiazzutte, scoltarimu'ne storiute, conti su, se muistidi, ogni dì si fa scossì, tutti i miei docrampullam, non sta pieni di papà, non stalla lontan, lontan, sta fermi a chiara la mamma, tutti i miei docrampullam, non sta pieni di papà, non stalla lontan, lontan, sta fermi a chiara la mamma, e non stalla lontan, lontan, sta fermi a chiara la mamma. Ieri va della beffane, cu la scuffa è tutta in lane, Ieri picchia il socchialcì, sott la nappe d'alchiamì, Ienus parte caramellis, desplui buinis, desplui biellis, cui regaie i siei pacus, e contente d'ucchi frus, Puarte in spalle e tanti regai, non si stracche propit mai, Ienus va lontan, lontan, cu la scuffa è stretta in man, passe i mons e passe il mar, simpre esisti ogni genar, non salconte cu lìs rimis, che lìs fiesti son finidis. Mandi, buon dia, scusa se ti disturbi, io sono Arianna, verresti tu per caso un'ombrana di perstani? Quando sei partita di chiesa l'era buon timp, ma come ho venuto che Dio le mande, e ho anche un montac di strada di fa. Sicur, non dai una, e ho voglia di chiole, mentre talchi al dottino intanto. C'è via le pianole che tu hai, puoi provarle. Sicur, provi, lo sarai così tan contente. La mia vita è stata l'era buon timp, C'è bravo, è che tu sei? C'è bravo, sei tanto contenta di ascoltarti, e c'è contenta che sei che l'ha smettuto di plovi, deve anche comparire l'Arc di San Mark! Facciamo un gioco, io dico se tu sei buono di chiedere l'Arc di San Mark, ti chiedo di dire in 20 secondi. Sei tu pronta, Cirilo? Chi è? 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 Chi è umani, io sono una fata di musica e cose tanti... steady! Chi è un amico e anche quella di come? Mi insegnaresti sto al canti a me? Sì, dai, allora, ti insegni proprio i telechiancion da l'art di San Margo. Guarda voi! Sì, dai, sei pronta? Dai! Giallimone la mimose Giallimone la mimose Pierciolar color di rose Pierciolar color di rose Bersklopit salatemente Bersklopit salatemente Rose triscule titente Rose triscule titente Sommarongia treise banche Sommarongia treise banche La nuvi c'è tutta e blanche La nuvi c'è tutta e blanche Cul celeste son sull'arc Cul celeste son sull'arc Che si clame di San Margo Che si clame di San Margo Avevi già ascoltate Mi soi visate come ho viaggiato i film Ma dove hai imparato queste chiancion? Eh, per dirti la verità le ho scrivute io Le hai scritte tu? Sì C'è biel E può di no anche suonare insieme? Sei tu? Sì, allora aspetta con voi a chiudere il flauto O sei pronte? Vieni qua Pronte? Sì Vieni qua C'è biele chiancion che tu mi hassi insegnato Sei tanto contente Ma tornaresti sto chiatami un'altra volta Sicur Non vorrei sguardo di imparare un'altra tua chiancion Va bene? Sì Scusa ma come all'etard Al scomincio il mio cartone animato preferito Ti fai un'istu avvio di lui con me? Sicur Dai, vieni Voi frus Us presenti il libro dal Dì Tende dal bosco E io ne raccolte di chiancionuti Se fili strocchi Dedicati all'isbestis Che avevano i boschi De nostra regione Componuti De mestre Arianna Plazzotta Che avevano avuto il plazio Di conoscere Voi I tox I tox a jering tal'imprim finalizzasa proges musicai in Lenge Fullane Poi dopo, grazie di collaborazione di Marisa Comelli, insegnante delle scuole primarie, il lavoro si è inserato di attività ludiche, grafiche e pittoriche pensate per Fruss. Un giustore lo hanno dato anche gli Arleves e gli insegnanti delle scuole di infanzia, delle scuole di musica dal gruppo folkloristico di Passons che hanno realizzato i ritrasi dei animali. Il bosco di Riul Grant è un bosco grandone, verdi arboi e di sterbs, pieno di rossi gialli, rossi, blanchi e colori di rose. In Tunetane doni dal Riul e viveva la volputa e tinde con sommari code rosse. Unedì, sul finì dalla stade, mamme volpe portate per prime volte la piccola tinde fur dettane. A evolputa, i plaseve di cori fra miei dei sterbs, doni e dal Riul, di chialacche aghe celestine, di saltucciate i erbe alte, cussi, cence visassi, sieres lontanade masse. Ma non viodin, plui la mamme e tornai in daur di corse. In che notte tinde non arrivava indormidissi e aveva chiamato al chiaf la biele avventure fatte tal dopo i mesi di. E pensava al Riul, al profondes rosi, agli scorsi e ai sal che aveva fatto. Di botte e sentì un chianto, si chialato ore tra i ramacci e vi odedò i voi calusivi. E domandava, quale è che il chianto è così? In quel momento, due sali sa svolare in via tal clare di lune. Ma aveva e la volputa si chialato ore. Su qual arbul potevi all'essi lato che l'uccello? Tinde lo sentiva anche mo' chiantai, chiaminando a urdi che il chianto è leve sempre più lontan. C'è scurca l'emma della soio, mi so io piardude, ecco ma... Tinde ieri plene di porre, non sapeva che c'è fa, ma sentì una voce fra mieci dai ramacci. All'era il vecchio cius, cui voglon spalancaz che le chialave dal rol vieri. Lui cagliere l'uccello, lui sapien dal bosco al di sé a tinde. Doar, volputa, non stave pure, o so il cius voli daur. Io sto svea di gnoto e o doar vie pal di. Ma domanda buonore, prindila a dormì, ti mostrerai il troi per torna in daur. La volputa espoarì dei domandà Se sto sicuro che non tu ha svea di manghiami? Il cius salta caridi No, no, o hai mior manghiali surrisutti se i sarpins che non li sbestis volputis come te. Così tinde sicurietà e stracca sin dormì di. Stracca perduti che s'avventuris, tinde e dormì come un club dute l'agnote. Ma appena che al cricca il dì, i tocchiadi sveassi per c'è che l'idonghi e qualcidù al tacca batti fuori c'entra e fermassi. La volputa si sfriolà i voi e poi vi odè sul rol vieri un picchi in vore. I domandà C'è questo po' che si adora? L'uccella risponde Perdonami se ti hai svea di ma scogli io stai niente prende al freddo. Ho so il picco bec lungo e sempre tanto ci fa per sbussare gli armi. In quel al svola viers la volputa il cius voli daur. Come che ti hai promettuto sei ca'. Come sta attente che ti mostri il troi per tornare a chiese. Per voi la storia non le conti fin alle fine. Se volessi aver frussi il finale, lei tacirì tindetta al bosco alla scuola di musica di Passons. Maman! Ecco ma, volesso imparare qualche peraule in diversi slenghi. Par furlan Arc di San Marc Par talian Arcobaleno Par inglese Rainbow Arc di San Marc Di Sere Buon team si spera. Allora di che se la Sere alven l'Arc di San Marc Tu puoi di sta' quasi sicuro che la di dopo alven buon team. Mandi, vigi Sa' sto c'è che mi è succeduto, vuoi? Voi, e gli è passate a suonami il campanello in te chiasute, Arianna Plazzotta. Arianna, egli è un'insegnante di educazione musicale, di teorie e solfecce a Passons. E ha suonati il campanello per domandami un'ombrene per via che fura al ploveve e egli è aveva un tot di strade di fa' a piede prima di arrivare a chiese su. Qua anche gli è arrivata a chiese e a viodù della pianola e ha scominciato a suonare la chiamcione dei colori dell'Arc di San Marc. E subite dopo, come parma gli è, l'Arc di San Marc ha le comparite al cilio. C'è mozione. Mi plazare svei sempre di lezioni di musiche di bande di un'emestre come gli è. Ho spero che torni di acchiatami a insegnarmi altri chiamcions. Ecco qua come si vio sui zanzi stracche. Si vio di un settemane che veng, mandi vigli, mamman. Se stu buon di fevela far furlani, mandi un tuo video simpatico in due là che tu non smandi su une dediche, un pensier, une chiamcione, une barzalette, c'è che tu vueli singe lingue furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filmi di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333722024 oppura mammancaiuttivustar.com Mande a 333722024 Ecco, arriva il nodale, come gli anni. Avevo un amico ben chiaro, con luce, balutti e tanti schien delutti. Faccio il giro, attorno, attorno, che passi in tutti i modi. Auguri? Auguri per la stradaria. Ecco ma, frus, clamai doni ai vostri genitori, cale al parlor. Qualchi piccoli consigli per crescere con più i linghi. L'iscrizione all'insegnamento della lingua friulana funziona in questo modo. Ogni anno le iscrizioni avvengono nel mese di febbraio. In questo mese i genitori della scuola dell'infanzia, attraverso un modulo cartaceo, i genitori della scuola primaria e degli altri ordini scolastici, attraverso un modulo online, effettuano l'iscrizione a scuola. All'interno del modulo viene posta una domanda precisa, perché ogni scuola ha la possibilità di personalizzare il modulo e quindi nella regione Friuli Venezia Giulia c'è l'opzione per l'insegnamento della lingua friulana. Quindi i genitori avranno una domanda. In questa domanda sarà scritto Vuoi avvalerti dell'insegnamento della lingua friulana per tuo figlio? Alla risposta positiva si dà avvio a questo tipo di insegnamento, che vale per tutto il ciclo. Quindi la risposta positiva data al primo anno della scuola dell'infanzia, come la risposta positiva data al primo anno della scuola primaria, è valida per tutto il triennio o il quinquennio. C'è però la possibilità, naturalmente, di modificare questa opzione e quindi nell'anno successivo si può dire rinuncio all'insegnamento del friulano e dall'anno quindi scolastico seguente, appunto, non ci sarà più questo insegnamento. Viceversa, la scelta effettuata all'inizio dell'iscrizione varrà per tutto il ciclo. Ieri va della giornate, ma sarimmo le ridate, c'un bravure io tal dis, la mia tu, pari in camis, tutti insieme in vecchiazzù te, scoltarimmo le storiute, con tutti insieme in stilità. Ogni dì si fa smussì, tutt'l'uimieldo franculan, non sta pierditi papà, non stalla lontan, lontan, sta fermi a chiara la mamà, tutt'uimieldo franculan, non sta pierditi papà, non stalla lontan, lontan, sta fermi a chiara la mamà, e non stalla lontan, lontan, sta fermi a chiara la mamà.